Buona visione Sarà meglio che io lasci Firenze E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni Sei ancora ricercato Ezio Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto Strappali e la gente si scorderà la tua faccia Anche i banditori istigano la popolazione Potresti corromperli così che parlino d'altro O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico Hanno venduto la propria dignità Nessuno ne piangerà la scomparsa Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te Non c'erano Non c'erano Ma guardatelo, si romperà il collo. Dio vi benedica. Non è certo un tipo di mito, mi pare. Buon Dio. Perdonatemi, mi torno dall'occhio da me. Sono una stupida. Non volevo muocervi. Non esiste la legge che pressavi la decennia. Andare in giro così. Buongiorno. Amici, uniamoci! Qualpi, tipellini, cristiani, ebrai! Perdonatemi. Era un ruolo di robocano. Qualc unsp doctori di corse. Contipamento d'altro. Calvano d'altro. Perdonatemi. Oulcia.